Premio internazionale Cicognini al celebre violinista Uto Ughi, consegnato da Davide Cavuti, direttore del Centro Ricerche e Studi Nazionale Cicognini. Il riconoscimento consegnato al termine del concerto tenutosi al Teatro Sirena di Francavilla, al mare città in cui visse Cicognini. Uto Ughi ha ricevuto il premio che fu vinto nel 2017 dal maestro Ennio Moricone per la sua straordinaria carriera. Il maestro Ughi ha ricordato il gesto estremo del compositore Cicognini, il preferito è di Vittorio De Sicca, di gettare tutti i suoi spartiti nel fiume Aniene, lodando le sue opere per il cinema, vere e proprie per le compositive che hanno segnato un'epoca e proiettato il cinema italiano a livello internazionale. Una serata unica, con le note di uno dei più grandi musicisti del mondo che hanno recheggiato alla Palazzo Sirena di Francavilla, il maestro Uto Ughi ha regalato emozioni al pubblico, teatro sold out da settimane, alternando nelle sue esecuzioni il violino Guarneri della Gesù del 1744 con lo Stradivari del 1701 denominato Kreutzer. Un compositore che ha dimostrato una profonda coscienza, una profonda anche umiltà, di gettare le sue cose nel fiume per una specie di rifiuto di una realtà. Era un compositore classico che si ispirava a Puccini e non poteva accettare che la musica fosse subordinata al cinema.